In questa lezione ci occuperemo dei nomi che formano le varie parti di una casa. La casa, das Haus. Le case, die Häuser. Il tetto, das Dach. I tetti, die Dachan. La parete, die Wand. Le pareti, die Wände. La porta, die Tür. Le porte, die Türen. La finestra, das Fenster. Le finestre, die Fenster. La scala, die Treppe. Il gradino, der Schritt, oppure die Stufe. I gradini, die Schitten, oppure die Stufen. La maniglia, dea Griff. La maniglia della porta, nello specifico, dea Tuagriff. La stanza, das Zimma. Le stanze, die Zimma. Il soffitto, die Dach. Il pavimento, der Fussboden. La mattonella, die Flies. Le mattonelle, die Fliesen. L'ingresso, dea Eingang. Il corridoio, dea Floua. Il balcone, dea Balcon. La terrazza, die Terrasse. Il seminterrato, das Untageschoss. La cantina, dea Quella. La cucina, die Kjuka. Il salotto, das von Simma. La sala da pranzo, das Hestzimma. La sala da pranzo, di un ristorante. Dea Speisesaal. La stanza da letto, das Schlafzimma. Il bagno, das Badezimma. La manzarda, dea Dachboden. Il ripostiglio, lo sgabuzzino, dea Kleiderschrank. Ora vediamo i nomi di alcuni mobili che sono presenti in una casa. Il tavolo, dea Tisch. Il letto, das Bett. Il camino, dea Camin. Il comò, il cassettone, di comoda. La scrivania, dea Schraibtisch. La lampada da tavolo, di Tischlampe. La sedia, dea Stuhl. Il cestino, dea Papierkop. Il vaso, da fiori, di Toffblume. Il divano, di Koch. L'orologio, a muro, di Vandua. Lo sgabbello, dea Hoca. La lampada da terra, di Shtelampe. L'armadio, dea Schrank. Il poster, da Sposta. Il sofa, das sofa. Il tappeto, dea Teppich. Il quadro, das Bild. La poltrona, dea Zessel. Il tavolino, dea Kochtisch. Lo scaffale, das Regal. Il televisore, dea Fensia. Lo stereo, di Stereoanlage. La sedia, a dondolo. Dea Schaukelstuhl. Se ti è piaciuta questa mia video-lezione, mettici un like, condividi e iscriviti a questo canale. Grazie mille. Alla prossima.